Il cane lavaggio Il cane lavaggio è un'idea imprenditoriale tutta italiana che evita soprattutto le case messe a soquadro dai Fido e Bobbi, riluttanti all'acqua. È un grosso risparmio per il proprietario del cane perché facendo in self-service non c'è il costo della manodopera per cui si va a risparmiare sul costo della toilettatura, che va comunque eseguito un paio di volte all'anno, però per il lavaggio è sufficiente quello che si può fare in un solo service come il nostro. Si inizia con la registrazione, nome e numeri di cane e padrone, quindi con la scheda Wash Dog si potrà accedere a tutti i servizi, dog taxi compreso. Ci si deve munire di uno dei kit per il lavaggio e quindi iniziare quello che per un cane di solito è una tortura e qui diventa quasi un gioco. Shampoo, balsamo, guanti e pettini, tutto a completa disposizione. È il momento della giornata che preferisce, lui spazzolato, coccolato, quindi il bagno, poi lui è un cane da neve, quindi l'acqua e tutti i suoi derivati per lui sono un divertimento. E il costi come ti trovi? Molto bene, sì, qui spendi neanche la metà e poi tra l'altro è un momento per stare insieme col cane, quindi lui si diverte e alla fine mi diverto anch'io. E se proprio non resistete alla tentazione di lavare il vostro amico a quattro zampe quando il negozio è chiuso, 24 ore su 24 è possibile accedere al self service utilizzando la solita card. Le porte del Wash Dog si apriranno anche di notte per una doccia a puntino.